ed eccoci qua ragazzi bentornati sul mio canale siamo su assassins creed unity e qui siamo nei panni di arnaud dorian dopo essere scappati dalla bastiglia nella scorsa puntata ovvero siamo in pieno inizio della rivoluzione francese e adesso ci stiamo dirigendo verso quel punto laggiù dove dovremmo unirci alla confraternita solo che prima di fare ciò abbiamo visto che dopo la fuga dalla prigione arnaud ha incontrato la bella elise che diciamo gli ha dato il 2 di picche per così dire noi siamo in una zona vietata solo che il punto è proprio lì dovremmo essere qui intanto qua c'è un bel punto di sincronizzazione mi accingo a farlo perché almeno così anche qui avrò la mappa al completo ma non ho mai capito perché bisogna sempre scalare torri alte la cosa che mi domanda non è tanto lo scalarlo è il come aderisce per salire fino in cima ma comunque qua siamo a notre dame de paris ora credo che questa sia la chiesa di notre dame quella dove ci siamo appollaiati no no notre dame è quella lì davanti eccola lì quella è notre dame ma noi dobbiamo andare laggiù ma dov'è la corri corrier no corri rinascita oh suppongo che un normale indirizzo sia banale e non c'è il civico poi come avrà capito che doveva essere proprio qui guardando la moneta poi cioè va bene che la moneta usando l'occhio dell'aquila dava delle indicazioni però come avrà fatto lui a giungere alla conclusione di dover arrivare fino a qui cioè va bene che apito adesso ma sai come faranno a pulire tutte le tutte le tracce di arno per salire qua sopra cioè sapeva pure il senso in cui ruotare la moneta cioè proprio i grandi misteri della vita proprio ok vai di l'arno vai ce l'abbiamo fatta geronimo mamma mia non iniziano i bug è proprio una noia oh eccolo là ebbè anche perché sono finito in un'altra prigione chi entrerebbe mai qui questa è una re da questi tunnel si raggiunge qualsiasi punto della città senza farsi vedere abbiamo occhio? davvero? non mi sei no ma poi tra l'altro come hanno arredato il posto non lo so cioè proprio utilizziamo questo posto da 600 anni idiota mhm e da quando sei qui da solo al buio ad aspettarmi? non molto Guillaume ti ha visto dal campanente ah bene c'è anche chi mi spia beh un'entrata notevole mi prende in giro oh pare figo però eh come nascondiglio zitto ci siamo e il candidato si avvicina oh candidato a chi eh? non sono il candidato alle elezioni ma che è il consiglio di Harry Potter? allora il figlio di Charles Dorian torna da noi torna è la che dubitava che venissi hai cambiato idea? sono stanco dei miei continui fallimenti il signor della ser mio padre io voglio rimediare la morte del gran maestro della ser pesa su di te perché? impugnavi tu la lama ha importanza la colpa è comunque mia è schiacciato dalla colpa tu ti fidi davvero di lui? si mi fido perché è in grado di affrontare tutte le cose e può fare grandi cose molto bene da un grande potere derivano grandi responsabilità come si può dire sei pronto a compiere la via dell'anima? se è il vostro modo di chiedermi se voglio aiutarvi sì sì allora bere no Arnoux sì ma perché devo bere solo io? eh mmm non diventare un ubriacone eh salute non ti sei risparmiato eccolo là eh infatti lo dicevo io eh il ragazzo non è abituato all'alcol eh infatti ci sono i risultati ci sono i risultati cosa succede? ehi ooooh nascita crescita gioventù adulto morte eeeh tocchiamoci raga tutti gli eventi passati di Arnaudorian qui dove caspiterina siamo finiti? vedo la luce quelli sono Arnaud ed Elisa da bambini c'è il nemesis uff si tralla tutto corri c'è il nemesis uff mamma mia oh 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 salta eh dove sei? dove sei? dove sei? ooooooh ah brucia si scivola yeeeh siamo al parco divertimenti numero uno in Italia oh 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 numero uno in Italia eccolo è lui nooo l non è che sono entrati quelli di Death Note e hanno il cui balordo oh avevo chiamato l'ascensore non lo so ci sono oh nooo e che cacchio oh due morti su due eh e mo? Arnaud è certo che porti più sfiga del Detective Conan però eh oh tutti i vestiti uguali permesso 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 aha c'è qualcuno eccoli la i due cadaveri ti ti faccio fuori ti faccio fuori oh eh minca sei sudato eh chissà cosa avranno pensato loro guardando lui che faceva il pazzo lo dicevo io queste sono le parole degli antenati le parole che riassumono il nostro credo non affondare la lama nella carne inocente nasconditi in piena vista non compromettere la contraterra scolpisci queste regole per la tua vita seguile e sarai elevato e infragile e sarai morto ma in giallo alzati assassino Arnaud oriano del mondo è cancellato dal mondo e i suoi peccati e il fallimento insieme stanotte rinasce adetto della compatta degli assassini خou hai rinascita completato da rinascita completato da 12 re